ok ragazzi hai i guanti e ci sono dai cominciamo a fare così e poi ci alterniamo così vi riprendo un po se no sembra che sono sempre da solo hai ragione è vero è vero andiamo dai forza non hai niente di una cattiva idea dai mike è figo figo mi lascia un po di spazio sei dietro di me dave ti lascia un po di spazio ok vai su grande ciao ciao ops scusa ciao 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 buona giornata si è fermato il trenino si è fermato il trenino si è fermato si è fermato il trenino 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 non si è fermato il trenino non so se ci è davida non è la prima voilà poi no non c'è la velocità ma neanche la posizione grande non so gli altri se aspettare un po niente tranquillo guida è un po più difficile ma comunque l'ho fatto anche in piedi così ok ottimo l'ultima volta non me lo ricordo quello abbiamo fatto adesso c'è anche questo per evitare quello ok così dove vai ah ma che cazzo minchia Antonello ah 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 per i cinghiali era perfetto il cinghiale non ci possiamo rimanere non ci possiamo lamentare si ormai da qua devi arrivi chi c'è con loro che conosce si ormai da qua 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 si ormai da qua